La manifestazione di ieri di sabato lascia il tempo che trova perché se da un lato è assolutamente legittimo la protesta, il dissenso da parte di alcuni amministratori di cittadini che la pensano diversamente, però dall'altro è assolutamente legittimo che si porti avanti una linea, una decisione, una proposta che è già stata avanzata in campagna elettorale e anzi sarebbe assolutamente da rispettare la volontà dei cittadini che hanno votato questa coalizione in maniera molto ampia anche e soprattutto per questo motivo. Quindi benissimo che questa giunta rispetta i patti che ha preso durante la campagna elettorale, nel proprio programma elettorale, quindi andiamo avanti spediti su questa linea per cercare di delineare un nuovo piano sanitario. La garanzia della tenuta del sistema sanitario a livello provinciale e soprattutto della garanzia delle strutture per la provincia di Pesorubino è dettata anche dal fatto che in giunta esistono tre assessori della provincia di Pesorubino, quattro consiglieri di maggioranza sono della provincia di Pesorubino, inoltre la mia presenza anche in commissione sanità sarà la garanzia affinché tutto quello che è necessario fare per la provincia di Pesorubino, sia per le strutture territoriali dell'entroterra che per la costa, magari anche se necessario con la costruzione di un nuovo ospedale, verrà sicuramente fatto. Quindi nessun soldo verrà assolutamente perso e verrà garantito comunque sia un diritto costituzionalmente garantito come il diritto alla salute.